Sono oltre 800 in Italia le realtà del terzo settore iscritte al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati. L'albo è consultabile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che entro il 30 gennaio di ogni anno si occupa di raccogliere le relazioni di attività a favore di inclusione e accoglienza. Il 47% sono cooperative sociali, il 43% associazioni. Sport, laboratori culturali, corsi di lingua e formazione in generale, le realtà iscritte al registro sono tutte quelle che, con le loro attività coordinate sui territori, garantiscono inclusione e coesione sociale, diffondono informazioni utili al positivo inserimento degli stranieri, prevengono discriminazioni, promuovono legalità e formazione al lavoro. Insomma, sono tutte quelle realtà che offrono a migranti e rifugiati un luogo accogliente capace di comprendere disagio e paure. Un esercito generoso, quello del terzo settore, a volte osteggiato da burocrazia e crisi, come quella pandemica che ha determinato una pericolosa battuta d'arresto a tutto il mondo dell'accoglienza e dell'integrazione, oggi però totalmente ristabilita. L'ultimo report delle attività condotte dagli enti del terzo settore iscritti al registro del Ministero a favore dei migranti parla di un aumento dei progetti di coesione di oltre il 20% rispetto al 2021. E i fondi pubblici nazionali sono la principale fonte di finanziamento per i progetti promossi, dato che però si attesta al solo al 51%, ciò ad indicare che il resto del sostentamento arriva da partenariati con il territorio e da raccolte fondi, queste ultime però messe a dura prova oggi dalla crisi delle donazioni esplosa dopo il caso Ferragni.